Chiede misure economiche urgenti a sostegno degli operatori delle feste patronali e delle sagre il consigliere regionale del gruppo misto, Mario Pendinelli. Ascoltiamo. Siamo partiti ad aprile con una mia richiesta di audizione del governo regionale rappresentato dall'assessore Capone e avevamo posto le basi per un intervento e anche per far diventare probabilmente la Puglia una regione apripista a livello nazionale nel sostegno di questo tipo di manifestazioni che hanno un valore culturale, storico e anche economico. Poi si è tutto bloccato in una serie di riunioni che non hanno portato a niente e che non hanno coinvolto i veri operatori del settore che conoscono i problemi. Oggi siamo a chiedere comunque di attivarsi in modo veloce per un impegno economico, per un'azione mirata che tocchi i diversi operatori del settore quindi dalle luminarie ai fuochi pirotecnici, ai commercianti, agli ambulanti, le agenzie di servizio e le bande perché questo è il mondo delle feste patronali ed è un mondo che rischia quest'anno moltissimo ma rischierà anche molto l'anno prossimo se non diamo una boccata di ossigeno e anche un segnale forte di speranza.